ricordiamo a tutti i tifosi di usare gli appositi cestini per la raccolta differenziata grazie grazie Il ha molto talento per questo, il sait mettere l'ambiance e poi conoscere l'importanza del pubblico in questa situazione. L'Olimpico è molto importante nella storia della Roma, che è evoluò in questo stade depuis 1953. Non ci ne avrà mai eschappé, il match ha già iniziato. Ca va su l'aile. C'è complesso, è difficile. La grosse intervention. Ca può essere extrêmement dangereux. Ah, c'è hâte di vedere se Del Piero va enchanter questo match. C'è sicuramente, è l'un dei trei grandi joueurs del l'italiano. Non ci ne v'irremmo mai qu'il se fasse oublier avant d'apparare face al but. Campan magico. E l'on lui souhaite in tutti i casi. Ah, c'è veramente frustrante. Il aveva malo d'option su questo coup. C'è joué dans l'espace. Il è passato. Il y a peut-être un coup a joué. La tête, elle è magnifique. Bien tenté, mais cette tête n'est pas cadrée. Il cherche ses attaquants. Il allonge, pourquoi pas. Il è passato. a tutte le vitesse verso la superficie la bonne passe il momento che fanno perdere c'è da un'alto non long pass, long pass, long pass let's go bien c'est ça et c'est directement récupéré c'est joué au sport du jeu l'apparemment qu'il n'a encore rien de jadonné dans les 30 ça peut partir au contraire il joue sur sa gauche il l'a emmené il l'a emmené il l'a pas assez précisé il l'a pas assez passé oh l'attention oh l'attention oh l'attention il l'a pas assez précisé je l'attention il l'aventurait il l'a pas assez décision je l'attention vous l'attention je l'attention mais c'est un coup je l'attention E' vero! C'è questo! C'è questo! C'è questo! C'è questo! C'è questo! E per il contato, si può essere recuperato! Wow! Oh! Oh! Il è pieno! Oh! Non! Un scenario invoyable! C'è il l'epiro! C'è l'epiro! L'episodio! Non! L'episodio! Quoi? Qu'elle ha fatto questo? Quoi? E la mia dire Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non Sì, 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 sì Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.